In volo con voi è un salto, è voglia di appare... Andrea Canella sapeva che giocare a Modena non era facile, però al di fuori forse del secondo set Pado ha sempre tenuto bene il campo. Sì, sappiamo che giocare qua a Modena è molto difficile a causa loro, loro mettono un sacco di pressione al servizio, però insomma abbiamo retto bene e siamo stati molto bravi a reggere il confronto contro di loro. Una Padova che esce fuori da questo pool playoff, è terminata qui la stagione, che bilancio ne dai? Dò un bilancio positivo e sono molto contento e molto fiero dei ragazzi che hanno giocato fino adesso.